Il Consiglio Paglionale, convocavo questa mattina, è di riconoscimento e di dire che sono il bilancio. Come a tutti i consiglieri nominali, vi è stato mandato, tramite questo, entro il consigliere Rossino, vi è stato mandato tramite questo per produrre tutta la tutta documentazione riguardando questo consiglio Paglionale, per una buona conoscenza di tutto quello che si tratterà stamattina, quindi io mi interessa, io faccio l'ordine del giorno per i tempi che sono il bilancio. Chiede la parola al consigliere, parla e dopo il consigliere Rossino. Buongiorno Presidente, buongiorno Presidente, il merito a riconoscere per il bilancio, da quelli che sono gli altri, anche se per i tempi che sono i contattoli, dire spessamente che l'amministrazione faccia sempre le indicazioni all'invito che fa il collegio di servizio, e quindi ti iscrivono e diranno le indicazioni individuali, eventuali responsabili e per i quali sono preparati. A questo punto chiedo che se non è un'attività verbale, quindi che questa amministrazione chiede che si faccia esempio a quelle che sono le azioni di controllo, a soprattutto di compilazione degli altri, alla conto dei punti, per l'indicazione di quelli che possono essere eventuali responsabili, di essere continue, diciamo, riconoscere le idee, quindi trovate quelli che possono essere giocati. Grazie. Va bene. Passi la parola per risolvere con se. Ecco, sì, sì. Allora, Presidente, vi perdoniamo la posizione della posizione del Presidente. Allora, in assusto vi vuole formulare la creativa con l'azione dell'ordine del giorno, che non contiene nell'elenco il ruolo di proposta delle deliberazioni, cosa che avrebbe molto difficoltà il collegamento tra il singolo capo dell'ordine del giorno, i file che sono contenuti all'interno dell'area riservata ai consiglieri e dove vengono appunto le qualità che ha di consiglia. Quindi è stato veramente in creda, molto difficoltutto, collegare i casi che erano presenti in ultimo, con quelli delle condizioni del giorno. Inoltre, la conferenza dei cani di un po' di sette nuova, come un legno in casa, la settimana scorsa, non c'è stato un preventivo, un ufficio di presidenza, per cui noi non abbiamo voluto, non è assolutamente questionare, gli atti in quanto non erano disponibili. E la conferenza di mandato a fare la posta vera la formulazione dell'ordine del giorno e la convocazione del Consiglio. Quindi io vi auguro che la reverenza che ha avuto il capiglucco del testare e del Consiglio non si intenderà più nelle prossime versioni. Rilevo inoltre che sono stati erroneamente iscritti capi all'ordine del giorno senza il prescritto parere delle missioni dei posti. e mi esistico quelli che vanno dal capo 01 al 05, altri capi invece... E non per questa madre, lo scusate. Dato la consigliere madre. Altri capi invece che non state escritti, a loro ne ne aggiungono anche il mancanza di una proposta conoscritta da dirigente, dall'assessore o dal sindaco sisco. Quindi una forma anonima. Non hanno la stabilità giuridica di una proposta del Consiglio e come tale mancanza il provvedere. Per cui non sono iscriviti all'ordine del giorno. Tantanto io chiedo di ritirare i capi dall'1 al 5 dell'ordine del giorno e le proposte 42, 43, 44 e 46. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.